Pietro, mi ami tu più di costoro? E mi ami più di tua madre, di tua moglie, dei tuoi figli, del tuo lavoro, della tua vita? Sì, perché dietro alle parole di Gesù del Vangelo di questa domenica, apparentemente dure ed esigenti, c'è il dialogo di Gesù risorto con Pietro sulle rive del mare di Galilea. E c'è il Golgotha e la croce. Prendere e portare la croce. È tutto qui. La tua croce di oggi ti scandalizza? Non chiedo se la croce fa male, ma se ti rifiuti, se la eviti, se fai di tutto per scappare dalla croce. Allora vuol dire che ancora non hai conosciuto sino in fondo Gesù e il suo amore assoluto. Ma coraggio, ascoltalo oggi. Perché è dalla croce che ti dice le parole del Vangelo di questa domenica. E da dove rende degno chi è indegno. Degno sei, agnello sgozzato di prendere il libro e di aprirne i sigilli. Perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E li hai costituiti per il nostro Dio. Un regno di sacerdoti regneranno sopra la terra. Ecco da dove viene la domanda di oggi. Mi ami più di tutti? E Pietro, tu sai tutto. Su sai che ti amo più di mia madre, eccetera. Ma come lo può dire Pietro che aveva tradito Gesù? Lo può dire proprio perché glielo chiede lui, glielo chiede Gesù. Che lui ha tradito e che lo ha perdonato. Amato come madre, padre, amici. Non lo avevano mai amato. Così tu oggi, indegno perché traditore, perché ami il mondo, davanti a Cristo crocifisso per te, per prendere i tuoi peccati e perdonarli. Oggi prendendo finalmente la tua croce e la tua realtà che in vari modi mostra la tua debolezza. Ecco, prendendo la croce dove ti accorgi di essere indegno di Gesù. Proprio lì Gesù ti fa degno con il suo amore, il suo perdono e non solo. Ti unisce a lui e al padre, a Dio, nella comunione della chiesa che è il suo corpo. Al punto di dire che chi accoglie voi accoglie te, accoglie me. E chi accoglie me in voi accoglie il padre. Sulla tua croce come Pietro, amato e perdonato, puoi dire, tremando certo, che sì, ti amo signore. Tu sai tutto, tu sai che nessuno mi ama come te. E che io desidero essere amato da te, come mi ami tu. E per questo non posso più amare nessuno e nulla più di te. Tu sai signore che desidero amarti e in te amare gli altri. Aiutami a prendere e portare la mia croce. A non scandalizzarmi della sofferenza, delle umiliazioni. Perché nulla anteponga a te. E lui, nella chiesa, nostra madre e sua sposa, ti legherà come Isacco alla croce. Croce che ti immerge con Cristo nella sua morte. E che a poco a poco uccide il tuo uomo vecchio indegno. Per risorgere con lui, degno di lui. E camminare così in una vita nuova, la sua vita. Che si trova e sperimenta perdendola, donandola, amando. Come ha sperimentato Gesù sulla croce, dove l'ha perduta per noi. E risorgendo, l'ha ritrovata per sempre insieme con noi. Perché proprio la tua croce, proprio la tua debolezza, è il tuo tesoro. Su di essa puoi sperimentare l'amore infinito di Cristo. E amarlo più di tutti. E offrire a tutti quelli che ti incontrano crocifisso con Cristo. L'occasione di essere raggiunti da Gesù e dalla sua salvezza e persino di amarlo. Perché Cristo e il suo amore si incarnano nelle nostre debolezze.